Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i Suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse «Non hanno vino» e Gesù le rispose «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro «Riempite d'acqua le anfore» e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto» ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Un caro saluto di pace e bene a tutti quanti voi amici che seguite puntualmente il Signore dei giorni su Padre Pio TV. La seconda domenica del tempo ordinario ci presenta nel brano del Vangelo un altro momento significativo della vita di Gesù che va a concludere, potremmo dire, il ciclo epifanico, voglia dire il ciclo in cui a partire dal 6 gennaio ricordiamo in modo particolare le manifestazioni divine. Bene, dopo il ricordo dei magi che si prostrano in adorazione riconoscendo nel bambino nato il Signore e gli offrono oro, incenso e mirra, dopo il ricordo del battesimo di Gesù al fiume Giordano quando viene descritta la discesa dello Spirito Santo su di Lui e la voce dal cielo che dice «Tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento», in questa domenica ascolteremo il brano molto conosciuto delle nozze di Cana, dove Gesù cambiò l'acqua in vino e diede inizio ai suoi miracoli. Venuto a mancare il vino, ascolteremo, la madre di Gesù gli disse «Non hanno più vino» e Gesù le rispose «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». È interessante questo primo passaggio che mette in luce anche il ruolo di Maria. La madre di Gesù media intercede perché la festa di nozze potesse continuare e Gesù compie il miracolo. Virano là sei anfore di pietra. Gesù disse loro «Riempite d'acqua le anfore» e le riempirono fino all'orlo. Disse loro «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Sappiamo bene che colui che dirigeva il banchetto rimase meravigliato dopo aver assaggiato l'acqua diventata vino e si congratulò con lo sposo. Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando già si è bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. E il Vangelo conclude dicendo che egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Gesù, carissimi fratelli e sorelle, è il vino nuovo, il vino buono. L'Evangelista Giovanni in questa cornice nunziale ci presenta il vero sposo, l'unico capace di cambiare le sorti della nostra festa, le sorti della nostra vita. Il vino alle nozze di Cana ci ricorda anche il vino dell'ultima cena che si trasforma in sangue di Cristo per la nostra salvezza. La gloria di Cristo allora si manifesta ancora mediante il sacramento della nuova alleanza che unisce, salva e redime tutti i credenti in Lui. A Gesù quindi che manifesta la sua gloria deve corrispondere il nostro atto di fede. sorretti anche noi oggi nel nostro tempo dall'intercessione della madre dobbiamo portare nel mondo il vino nuovo, il vino buono che è Cristo. Pace e bene e buona domenica a tutti. Grazie a tutti.